Nella nuova area Costi e traffico di My Vodafone puoi tenere sotto controllo tutti i tuoi costi in modo semplice e veloce. Puoi scegliere di visualizzare i costi del mese in corso o quelli relativi al periodo di tuo interesse. Dalla voce Ricariche puoi verificare le ricariche effettuate nel periodo selezionato. Se hai un'offerta con minuti o gigabyte inclusi dalla voce Offerte puoi verificare il consumo del tuo pacchetto telefonico. Per visualizzare i costi non inclusi nella tua offerta puoi cliccare sulle singole voci di Costi a consumo, Chiamati, Messaggi, Internet. Sotto la voce Servizi digitali troverai i costi dei servizi a pagamento che hai attivato sulla tua SIM, SMS, Servizi bancari, Oroscopo, Infiniti, ecc. In Altre operazioni e servizi troverai i costi relativi a servizi accessori come Recall Chiamami, Segreteria telefonica, ecc. Tutto questo è possibile solo con l'app My Vodafone. Se non l'hai ancora utilizzata, provala subito! Grazie a tutti! Grazie a tutti!